Oh, ascolta Granata, non prendere impegni di sabato per l'anno prossimo, eh. Al massimo la domenica ci andiamo a fare un pranzo insieme, che ti devo dire. Uè, sfigato zozzo nero! Aspetta che tuo cugino mi sta chiamando. Sì, ci sentiamo dopo, ciao, ciao. Vilanista? Rubentino? Sapete solo attaccarvi a quello ormai, mi fate proprio vena. Guarda che è la verità, eh. A proposito, Ronaldo si sta allenando con i tuffi. Sei fortunato che forse neanche gioca, ma tanto vi stracciamo lo stesso. Va bene che ce ne fate dodici, però se non vi danno l'aiutino, eh. Guarda che sono i campioni che fanno la differenza, non Suso, Calabria, quelli là. Eh beh, oh, che scherzi, Orsato e Mazzolini sono i vostri top player, oh. Mamma mia, quanto rosicate, oh, mi sembrate i prescritti. Che ha detto Ronaldo e Giuliano? Ma è stato in bico. Cioè, ma io devo dividere San Siro con questo? Cioè, anche meno.